Cosenza-Lecce non è mai una sfida qualunque, dall'ultima giornata di campionato del 1992, fatale per i sogni di gloria dei Rosso-Blu, all'esodo della scorsa stagione con dirigenti e calciatori che si sono trasferiti al Via del Mare. Tanti quindi sono i motivi per dare ancora più verba allo stadio San Vito Marulla. Nel primo tempo il Cosenza tiene bene il campo, contro un avversario che per inerzia preme maggiormente sull'acceleratore. Speculare gli atteggiamenti tattici in campo, sia De Angelis sia Mister Padalino si affidano al 4-3-3 per avere così due squadre sostanzialmente bloccate a centrocampo, con poche occasioni maturate, più per la buona lena dei singoli che non per il costrutto collettivo. Nella ripresa sale il numero dei cartellini gialli e arrivano i primi cambi in campo, mentre le condizioni climatiche non rendono facile la stabilità dei 22 all'interno del terreno di gioco. Si gioca praticamente più a scacchi e non a calcio e lo spettacolo ne risente giocoforza. Il finale a reti bianche è logico a conseguenza quindi di un incontro non certo tra i migliori per entrambe le squadre, ben diverso sicuramente dal 3-4 della scorsa stagione. Nessun migliore in campo, Lecce che si trova ora a meno sede alla capolista Foggia, il Cosenza comunque rimane attaccato alla zona playoff e tanto basta.